Remember the dream? I love you! Let's see what it is Let's see Let's see Let's see Oh, that's beautiful The texture of the grain The grain has a color The grain has a color So it's perfect The grain is so The big nox continues like this Innovation This is the word I love But You don't earn any $6.000 No You have to go in the oven Bread 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 da standards Pure Problem Bread It's the gyda I got a meat Script Where are you? Ey, what? Raising Bread Onno Air Not for Fiend offshore non urlare tommy non urlare silence please ehi è tutto pronto eh facciamo un casino si infatti però è giusto che sia così comunque il grano ci mettiamo un poco a crescere si relativamente 4 minuti ok vai a partire tanto Brad 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 ok 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 oh adesso siamo pronti eh abbiamo anche delle mese vi sa ah voglio farmi un'altra lanterna 1,2,2,3,4 si sicuro ecco così le piazziamole partiamo eh sfatate l'inventario che si riempiono anche di cacche e poi partite una crafter che magari serve un'altra lanterna allora lasciamo tu questo 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 этот è fatti una workbench e sei nell'inventario ok tu vieni con noi ora devi essere bravo a schivare appunto puoi anche metterla giù eh non è che ci mora nessuno se tu la fa il culo è difficile perché tu vieni la mele? no con la spalla no la trovavo molto col piccone col piccone? oh questo si chiama culetto no si chiama bravura e conoscenza videoludica vedi le miele oh che cacchio e se ci sentiamo più colori con l'acqua? dobbiamo farci un percorso un percorso solo e con l'acqua sarebbe fottutamente figo se lo aveva qualche voglia attento è i fatti torna su mangia vecchi mangia il bread no no mangiamo le miele ultime risorse no 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 le miele hanno vabbè devo usare il bread si lanterna io ok questi qui sono i nostri pezzi di oh provoci uno di quelli per me ci droppano speriamo vieni la spada venite qua vieni mi fanno non hai troppo niente? no oh diavolo colpi di esperienza bloccato dalla lanta ah possiamo raccinarla ahahah no però è lenta la cosa dai questi qui come facciamo spaccarli? è proprio piccone devo cazzare acqua picc aiuto che diavolo sono due eh vabbè tu usi piccone brett 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 però uno li fa quindi tecnicamente potrei ucciderli che cazzo e non toccarli cavano addirittura tre per qui sono due cavano più delle gelatine cosa si fa con questa torcia? ehi non ce la spostavo adesso proviamo a ucciderlo a ucciderlo ah grande ma con calma eh si si no scusa scusa non è chi davvero più mangia il bread mangiatelo mangiatelo perchè mangi ok adesso con calma se si mette male torna su perchè non abbiamo più risorse torna su certo che per fare una lanterna ci vuole un'eternità costa di più fare una lanterna che così sarà qua tante ma se no forse serverebbe a casa no no non serve a casa prendi l'arma prendi l'arma dobbiamo lasciarci aspetta torniamo a casa e ci lasciamo poi ci prepariamo a che la camera è spente oh ma mi sembra che la casa si sia avvicinata no non penso che stia camminando per me hanno un timer basta di cagate Tommy vabbè allora quindi vi vedete in attendance è tutto mettete mi piace commentete e iscrivetevi YACZY e Tommy ci vediamo al prossimo episodio di Minecraft Intellig ...